buon pomeriggio a tutti primo appuntamento di presentazione di questi nove incontri di brainstorm sono paolo verri sono il responsabile dei progetti speciali di torino 20 25 innanzitutto che cos'è torino 20 25 benvenuti a tutti quelli che ci stanno ascoltando e benvenuto a egidio dan sero professore dell'università di torino che sarà con noi per questo primo appuntamento oggi pomeriggio ciao egidio benvenuto grazie ciao torino 20 25 è l'ennesima edizione di un universiade un universiade è un grande appuntamento costruito appositamente per gli studenti universitari appassionati di sport gli universi sono nate a torino nel 1959 su grande progetto di un grande dirigente sportivo internazionale primo nebbiolo hanno avuto delle edizioni sia invernali che estive molto significative nella città di torino in particolare sono ricordate memorabili le edizioni nel 1970 alla quale hanno partecipato straordinari campioni come marcello fiasconaro pietro mennea moltissimi altri e poi l'edizione più recente quella delle delle universiadi invernali del 2007 successive alle olimpiadi di torino del 2006 di cui hanno utilizzato le infrastrutture di cui in qualche misura hanno proseguito e sono la strada di rinnovamento della città di torino proprio egidio d'ansero con un grande team ne ha fatto la valutazione insomma nel nel quindicennio scorso oggi le universiadi non si chiamano più così si chiamano da pochi mesi fisugames quindi sono i giochi della federazione internazionale di sport universitari e l'edizione del gennaio del 2025 dal 13 al 23 gennaio 2025 si terrà a torino sarà un'edizione invernale recentemente due anni fa si è tenuta a napoli un'università estiva di grande successo nel 2025 le universiadi estive si terranno a in germania a esse nell'area della rur un'altra area che ha molto spesso usato eventi per raccontarsi e per cambiare i fisugames del 2025 avranno una grande innovazione torino propone che questi giochi non siano soltanto giochi sportivi i giochi sportivi si svolgeranno in cinque sedi oltre che nella città di torino dove come spesso succede avremo la cerimonia inaugurale la cerimonia di chiusura e gli sport del ghiaccio quindi in particolare il pattinaggio artistico il pattinaggio di velocità e lo che su ghiaccio saranno coinvolte come è stato anche per le olimpiadi le cosiddette valli olimpiche quindi sia la val di susa che la valle bellice con pinerone torre bellice dove si giocherà a carling e a ok sport molto distrutti apprezzati tipici di quei di quei luoghi e a bardonecchia e a pragelato dove saranno protagonisti gli sci e in particolare lo sci nordico a pragelato e lo sci alpino con nelle sue diverse varianti a bardonecchia abbiamo immaginato di aggiungere a quella competizione nove sport della mente che cosa vuol dire sempre più spesso il mondo universitario è chiamato a dare risposte opportunità a mettersi in gioco soprattutto sugli obiettivi del millennio sappiamo che abbiamo i cosiddetti sdg per il 2030 i 17 grandi ambiti in cui bisogna sportarsi di raggiungere degli obiettivi di sostenibilità di nuova socialità di lotta alla povertà di miglioramento delle condizioni del del pianeta insieme alle quattro università del piemonte università di torino il politecnico di l'università del piemonte orientale l'università di scienze gastronomiche di pollenzo insieme ai quattro rettori che ringrazio abbiamo costituito un team per selezionare nove diversi appuntamenti che si svolgeranno proprio nella settimana dei giochi quindi al mattino e il pomeriggio ci saranno i giochi sportivi il pomeriggio ci saranno questi giochi della mente con dei team composti come per gli sport tradizionali da studenti universitari e poi la sera ci sarà tantissimo spazio al divertimento alla cultura alla musica agli approfondimenti questi nove diversi ambiti vedono protagonisti in tre di essi dell'università di torino proprio dopo domani avremo un appuntamento insieme al professor alberto rainoldi per parlare di scienze della vita di medicina i nuovi modelli per una miglior capacità di avere una buona relazione fra la natura fra il cosmo e il nostro corpo poi parleremo di democrazia e oggi appunto trattiamo con il professor danzero il tema della sostenibilità e della relazione con i beni pubblici nelle settimane successive andremo a trattare anche tre ambiti individuati insieme al Politecnico di torino il tema delle città il tema della vita urbana che molto incrocia anche con il tema della sostenibilità di cui vi parliamo oggi pomeriggio il tema dell'aerospazio e dello spazio in generale una delle industrie trainanti sia come cluster economico di torino del piemonte ma in generale del pianeta con una grande ripresa dopo gli anni settanta di studi e opportunità proprio in questi giorni vi ho scritto un bellissimo libro della professoressa vaudo scarpezza che si intitola mirabilis che ci spiega quali sono le scommesse che l'umanità può e deve fare rispetto alla diciamo di all'aerospazio allo spazio e poi avremo un tema importante come quello dell'energia insieme all'università del piemonte orientale tratteremo il tema delle diseguaglianze e anche il tema dell'invecchiamento della popolazione e tipicamente invece con l'università di pollento tratteremo il tema del food ma non tanto il food in quanto argomento di gusto di piacere ma invece di impegno di socialità di sostenibilità nel cibo nella nuova produzione del cibo per un miglior futuro più equilibrato del nostro pianeta chi può partecipare a queste sfide possono partecipare tutti gli studenti in corso al a tutto il 2025 sia della triennale che della specialistica di tutte le università italiane e quindi questo è un bando aperto a tutti gli studenti italiani che abbiano voglia con noi di diventare le squadre che sfideranno le università straniere sarà infatti quella del gennaio del 2025 una competizione internazionale così come avremo oltre 60 nazioni da tutto il mondo che si sfideranno nei nove sport della neve del ghiaccio contiamo di avere tantissime nazioni partecipanti proprio lo scorso weekend siamo stati a strasburgo insieme al presidente del comitato organizzatore alessandro sciretti ospiti dell'associazione internazionale ed europea dei collegi di merito per presentare questa competizione anche per gli studenti stranieri la competizione per gli studenti stranieri sarà poi ufficialmente lanciata il 13 gennaio del 2024 quindi un anno esatto prima della cerimonia inaugurale dei giochi di torino 2025 in quella data presenteremo i team italiani che i docenti di università di torino politecniche di torino università del piemonte orientale e università di scienze gastronomiche hanno avranno ritenuto capaci di rispondere ad alcune semplici domande che trovate sul nostro sito proprio nella sezione brainstorm il sito è vug torino w w u g quindi world university games torino 20 25 punto com dove trovate molto meglio di scritta di me che sto dicendo in maniera così verbale ma le trovate per iscritto tutte le informazioni che ora vi sto dando e quindi eh c'è la possibilità per tutti fino al 13 d'ottobre di iscrivervi a a questo bando e se i i team vinceranno questo bando avranno un grant eh di mille euro per approfondire le attività nelle quali vogliono eh per le quali vogliono candidarsi avranno la possibilità di essere nostri ospiti con un pass per assistere a tutte le gare del duemilaventicinque dal tredici al venti tre gennaio del duemilaventicinque e saranno ospitati gratuitamente a torino come devono essere composti questi questi team devono essere composti da quattro studenti e deve esserci diversità di genere quindi non possono essere quattro ragazze o quattro ragazzi ma ci deve essere almeno un una diversità di genere all'interno del del team che cosa devono fare questi team devono scegliere un tema eh mandare un curriculum e mandare un progetto scritto in tremila battute eh e oltre a un progetto scritto in tremila battute anche un pitch quindi una registrazione di un video di almeno cinque minuti nel quale spiegano ehm perché hanno deciso di candidarsi e perché hanno scelto quel tipo di progetto io ringrazio molto per l'attenzione e passo la parola al professor Dancero al quale lascio la possibilità di spiegarci bene il tema di sustainability e public goods quindi qualcosa che l'università di Torino e le università in Italia attraverso la rete delle università sostenibili sta molto studiando cercando di capire come rendere più sostenibile l'università più sostenibile l'azione della ricerca più sostenibile la vita degli studenti all'interno delle università e anche ancora come queste esperienze possono essere diffuse allo spazio pubblico all'ambiente urbano ma non solo l'ambiente urbano anche l'ambiente per esempio un tema che ci sta molto a caro qui in Piemonte che con il professor Dancero con il professor Barbera con il professor De Rossi abbiamo studiato implementato il tema per esempio della metromontagna quindi della relazione tra lo spazio urbano lo spazio della montagna e tutti i territori intermedi quindi un tema veramente molto significativo molto importante che anche molti investimenti in questo momento dal punto di vista del PNRR e che lascio il professor Dancero illustrare sia in termini generali e sia anche chiedendoli che cosa ci si può aspettare da un team di quattro studenti in corso possibilmente io credo interdisciplinare che possa dare delle idee per il futuro del pianeta e intanto gli chiedo se gli piace l'idea che i giochi mondiali universitari del 2025 a Torino abbiano questa innovazione quindi abbiano tanto sport ma abbiano anche una competizione sana e lasciatemi dire di cooperazione nazionale internazionale per risolvere i problemi del millennio proprio qui nella nostra città. Grazie Paolo grazie per avermi coinvolto in questa sfida la sfida appunto parte in primis da noi a me sembra un'iniziativa molto bella molto stimolante quella appunto come dicevi di affiancare ai giochi alla parte sportiva questa questa sfida questo questa prospettiva con cui cimentarsi vale a dire provare a pensare nei diversi ambiti individuati azioni idee possibili progetti di di vario genere possono essere applicazioni pratiche possono essere progetti di innovazione più sociale o più tecnologica queste iniziative si cimentano con vari temi abbiamo iniziato col tema della sostenibilità che in qualche modo li comprende ma tutti quanti ma ha una sua specificità li comprende perché se prendiamo come riferimento l'agenda 2030 con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile ecco questi 17 obiettivi e poi tutti gli indicatori e target toccano praticamente ogni ambito di di attività allo stesso tempo c'è una questione più specifica che è relativa alla sostenibilità intesa sia in senso ambientale che in senso sociale e culturale e che può trovare degli ambiti anche molto concreti e ha bisogno davvero di sguardi da parte di giovani eh degli sguardi che sappiano vedere lo stesso mondo in modo diverso questo è in fondo eh un ambito in cui abbiamo cominciato da anni a cimentarsi come singoli atenei e poi via via ci siamo riuniti in Italia in questa rete dell'università per lo sviluppo sostenibile eh che si chiama RUS e che è organizzata in tanti gruppi di lavoro tutti orientati al capire in primis come rendere le università dei luoghi delle comunità un po' più sostenibili come erano in precedenza e tra l'altro poi di recente abbiamo creato una sottorete facendo una sinergia più stretta proprio tra i quattro atenei piemontesi appunto la sottorete RUS Piemonte e nel fare questo ci confrontiamo con analogo di esperienza a livello internazionale. Provo a fare alcuni esempi per farvi capire quali potrebbero essere degli ambiti ecco ehm nei gruppi di lavoro della RUS e poi ogni ateneo poi li interpreta variamente noi come Università di Torino abbiamo creato dal 2016 un E2Go che sarebbe il Green Office dell'Università di Torino proprio con l'obiettivo con questo obiettivo o tre parole chiave conoscere coinvolgere cambiare quindi partendo da questioni molto eh di base tipo la raccolta differenziata dei rifiuti quindi campus come io adesso in questo momento mi trovo al campus Luigi Einaudi che è una delle strutture più belle dell'Università di Torino firmata dall'Archistar Norma Foster però all'inizio non facciamo la raccolta differenziata o veniva in modo non sistematico. Abbiamo fatto tutto un lavoro eh affiancandoci con l'azienda municipalizzata di raccolta rifiuti per riuscire a ehm a sistematizzare la raccolta differenziata però c'è ancora molto spazio per migliorare la qualità con azioni di sensibilizzazione e divulgazione informazione e quindi c'è spazio per esempio per iniziative che possono passare o attraverso delle app innovative. Ce ne sono già alcune che saltano fuori proprio dal lavoro di studenti. Cito il gruppo eh non so un un'app che poi oggi è una società come Award oppure una realtà eh un'altra start up del Politecnico di Torino come Relearn che hanno ehm elaborato uno strumento che attraverso l'intelligenza artificiale si chiama Nando eh è un acronimo ma sostanzialmente consente di capire la qualità della raccolta differenziata e quindi dare dei feedback per chi gestisce il servizio e dare dei feedback poi per gli utenti nel eh riuscendo a capire come come migliorare. Ecco questi sono alcuni esempi per esempio per quanto riguarda la gestione dei rifiuti ma pensiamo al tema dell'energia, dell'illuminazione, pensiamo al tema della gestione delle risorse, dell'acqua, del verde urbano dentro gli spazi dei campus e al di fuori degli spazi. Pensiamo al tema della mobilità, della mobilità sostenibile ehm o il tema degli acquisti pubblici ecologici di riuscire a dare alle pubbliche amministrazioni che siano università o eh altre pubbliche amministrazioni delle corrette informazioni in modo tale che eh gli acquisti pubblici possono essere orientati verso per esempio nell'acquisto di carta che sia la carta eh diciamo migliore dal punto di vista della disponibilità del mercato sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Ma se allarghiamo lo sguardo ci possono essere altri esempi no? Degli esempi di beni pubblici possono essere anche quelle piccole uole in genere dimenticate nelle città che vedono magari l'attivazione di cittadini nella gestione del verde pubblico e quindi ogni tanto anche nella città in cui vivo cioè a Torino eh ci sono alcune luoli particolarmente belle poi andando a guardare uno scopre che c'è dietro un'azione di alcuni cittadini che si sono presi cura di quello spazio attraverso una forma di patto di collaborazione con la cittadinanza. Questo è un altro esempio di ambito in cui si può provare a eh pensare come guardare in modo diverso lo spazio pubblico per esempio all'interno dell'università o negli altri luoghi pubblici o ehm o all'esterno e ehm e così eh gli ambiti possono essere davvero davvero molti. Mi viene in mente anche tutto il tema dell'arte pubblica eh dentro i luoghi pubblici o all'esterno e quindi strumenti eh di vario genere che possono informare e rendere più fruibili eh eh queste ehm queste infrastrutture e queste opere di arte pubblica. Questi sono solo alcuni degli esempi eh anzi ci aspettiamo e auspichiamo che la fantasia eh delle studentesse e degli studenti possa assolutamente illuminarci per farci vedere delle possibilità che magari sono dopo diremo ah come mai non ci abbiamo pensato prima ecco però ci vuole qualcuno che provi a guardare eh gli stessi spazi, gli stessi luoghi, le stesse abitudini con eh con occhi e attitudini nuove. Magari appunto unendo competenze diverse in cui stanno bene sensibilità e e e e preparazioni differenti in cui c'è spazio veramente per tutti in tutti gli ambiti del sapere dal medico all'agronomo, al tecnologo eh all'umanista ehm c'è bisogno anzi molto di incrociare i saperi eh pensiamo anche tutto l'ambito di cui sappiamo ancora poco tutto l'ambito che un po' ci spaventa e ci inquieta dell'intelligenza artificiale come potrebbe essere eh compresa e utilizzata al meglio per aiutarci a migliorare l'avibilità eh degli spazi che abitiamo sia come luoghi di lavoro sia nel eh appunto negli spazi pubblici. Pensiamo anche eh ad esempio al tema della movida degli spazi degli spazi urbani eh e come si possa pensare di poterla migliorare eh per rendere più compatibile delle attività che di per sé non non sono negative anche se sono delle occasioni di incontro di socialità lo diventano quando c'è un'eccessiva pressione e concentrazione che va a scapito del del diritto delle altre persone che che vivono in quei luoghi ecco. Ho fatto alcuni esempi eh sicuramente non esaustivi me ne verranno sicuramente in mente altre però direi eh eh è proprio l'occasione giusta quella delle universia le chiamo ancora al vecchio modo come primo nebbiolo le avevi inventate è quella di provare a così a a guardare oltre e a cogliere in pieno la la sfida in questo caso sportiva. Ti ringrazio ti farò ancora qualche domanda voglio intanto ricordare ancora un po' di dati quindi vi ho già detto per tutti quelli che ci sono in ascolto sia studenti che hanno voglia di partecipare sia docenti che hanno voglia di invitare i loro studenti a farlo perché ci rivolgiamo a entrambe le categorie ci rivolgiamo anche a genitori che hanno voglia di invitare loro loro figli oppure a imprese che hanno voglia di invitare giovani che magari stanno facendo una dual career diciamo sia ad approfondire questo tipo di eh di tematiche innanzitutto noi eh abbiamo questo parternariato con il dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio con la regione Piemonte con la città di Torino con ed iso con il CUSI quindi con il comitato universitario per lo sport nazionale e con il CUS eh Torino ringrazio tutti che stanno dando ampia visibilità a questa nostra eh attività. La valutazione eh di questa fase sarà condotta fra il tredici di ottobre e il tredici di dicembre e sarà condotta su sette punti che trovate sempre nel bando nel nel sito VUG Torino venti venticinque punto com slash brainstorm i sette punti ve li leggo sono originalità dell'idea, rilevanza nazionale e internazionale degli obiettivi perseguiti, chiarezza espositiva, impatto atteso, fattibilità, qualità della composizione del team e qualità complessiva del progetto. I finalisti che auspicabilmente noi auspiciamo siano cinque squadre italiane per ciascuno dei nove temi quindi alla fine dovremmo avere quarantacinque squadre italiane che sfidano all'incirca duecento squadre complessive straniere cento ottanta squadre straniere e quarantacinque squadre italiane quindi alla fine noi ci immaginiamo di avere duecento venticinque squadre complessive venticinque per ogni tema venticinque come Torino venticinque evidentemente questo è il nostro target questo è il nostro obiettivo eh i vincitori vinceranno una medaglia d'oro i primi classificati e quarantamila euro quindi diecimila euro a studente per portare avanti la propria idea di sviluppo le medaglie d'argento vinceranno ehm ventimila euro quindi cinquemila euro a studente e le medaglie di bronzo il team terzo classificato ehm vincerà un premio di dodicimila euro complessivi quindi tre mila euro a eh studente saranno affiancati eh subito dopo la partecipazione all'evento cioè a partire dalla seconda metà di febbraio di da diversi team che le aiuteranno anche a trovare imprese o soggetti per implementare le loro proposte quindi si tratterà di un progetto di start up pubblico pregato molto 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 forte il professor Danzero ha già citato come alcune progettualità alcune app alcune funzionalità siano diventate appunto di servizio abbiamo dato vita diciamo sia obiettivi di impresa uno dei nostri obiettivi è anche quello di portare più talenti in Italia e a Torino perché sappiamo che l'attrattività dei luoghi è sempre di più legata all'attrattività delle persone e non è un caso che abbiamo selezionato temi molto vicini ai cluster diciamo così importanti del nostro territorio dalla mobilità eh un tema storico importantissimo con i treni, le automobili eh gli aerei diciamo della produzione di questo genere meccanica di mobilità tipicamente torinese ma fino a tematiche più recenti come per esempio tutto il tema della democrazia e quindi di nuove forme di legislazione per nuove forme di 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 società quindi vi voglio ricordare che eh ci sono due fasi una prima fase la selezione nazionale rivolta agli studenti italiani con un premio di mille euro per ciascun studente a team per partecipare a questo tipo di attività eh preparatoria e poi una sfida finale dove eh verranno sottoposti i venticinque team partecipanti alla finale e al finale sarà di una durata di circa un due ore con una diretta radio televisiva come proprio un vero e proprio game show dove ci saranno delle domande e delle risposte e dei progetti da realizzare proprio in diretta eh nel corso della delle delle due settimane dei dei giochi universitari quindi saranno dei momenti anche molto divertenti e molto affabili molto molto diciamo così collettivi eh vorrei chiedere a a a professor Danziero prima di chiudere quali sono gli ambiti di studio che l'università di Torino anche il Politecnico che lui ben conosce in generale le università piemontesi eh possono mettere in gioco proprio per lavorare sul tema della sostenibilità sia con dei corsi diretti sia con dei corsi interdisciplinari penso che le nostre università non solo hanno bisogno di questo ma stanno anche preparando competenze quindi dove vengono preparate come vengono preparate queste competenze beh eh sono molti corsi di laurea triennali e magistrali e poi ci sono anche tutti gli altri corsi master eh di vario genere che sono orientati ai temi della sostenibilità ehm ne cito due tanto per partire ehm un corso di laurea tra l'altro interateneo in economia dell'ambiente e cultura e territorio che si appoggia al dipartimento di economia e statistica eh dell'università di Torino ma vede coinvolte sia docenti e dipartimenti sia del Politecnico che dell'università di Torino il corso di laurea di geografia e scienze territoriali anche questo molto legato ai temi anche questo interateneo ehm per esempio al Politecnico mi viene in mente anche il corso di laurea di eh design architettura per il design sostenibile o un nome di questo tipo e e e lì mi vengono in mente lavori eh degli studenti che ho già visto e che qui potrebbero andare molto bene non so nell'immaginarsi dei modi di vivere la città o anche dentro il campus o nello spazio immediatamente attorno ai campus universitari in cui uno può avere delle panchine attrezzate con pannelli solari e poi può ricaricare il cellulare piuttosto che piuttosto che il computer ehm quindi allo stesso tempo creando dei luoghi eh belli di socialità ecco cose di questo tipo mi sembrano degli esempi e sicuramente gli studenti che beh che si formano a architettura design o i vari corsi di laurea di urbanistica poi ci sono ovviamente i corsi di laurea più di tipo tecnologico sia al Politecnico che all'università dalla chimica alla biologia all'agraria ai vari corsi di laurea di ingegneria e dell'architettura dove la componente tecnologica è più forte e sempre di più l'orientamento è quello della sostenibilità anzi noi ci siamo attrezzati sia come università che Politecnico per avere dei corsi di base di formazione della sorta di lezioni zero sulla sostenibilità che possono essere rese disponibili a tutti anche studenti di medicina piuttosto che di scienze umane eh in modo tale che anche in quegli ambiti che apparentemente potrebbero sembrare più distanti però ci sia possa essere una una formazione di base su questi temi io ti ringrazio tantissimo ringrazio tantissimo l'università di Torino tutti i colleghi delle altre tre università con cui ci interfaceremo nelle prossime cinque settimane sarà un racconto bello sarà un modo anche di raccontare come l'università funziona come enzima di grande ripensamento miglioramento del della società dell'economia e noi cerchiamo di dare il nostro contributo facendo capire che proprio lo sport può essere uno stimolo per stare insieme e lavorare diciamo così eh a con delle performance diciamo di intelligenza collettiva credo che l'idea veramente di fondo sia che come si come primo Nebbiolo aveva intuito che stare insieme per fare sport crea nuove forme di di statualità e nuove forme di socialità così ritrovarsi insieme per competere in realtà vuol dire cooperare per una società migliore l'appuntamento è prego mi permetto scusami eh di aggiungere non vorrei allora dimenticavo di dire che poi i corsi laurea a Pollenzo sono tutti orientati alla sostenibilità cioè tutta Pollenzo è costruita attorno al prospettiva della sostenibilità e anche nell'università di Monte Orientale tra l'altro dove è nato un nuovo dipartimento da un paio d'anni che è proprio un dipartimento per lo sviluppo sostenibile che quindi ha raggruppato docenti di varie discipline dalle scienze economiche e sociali alle discipline tecnologiche su questi temi però poi mi vengono in mente anche perché gli spazi pubblici proprio partendo dal tema dell'università sono anche quelli sportivi no eh pensate che ogni ogni sport ogni sport ha una sua spazialità delle sue regole sociali no? Di di competizione e collaborazione che sono diverse tra rugby soprattutto tra sport individuali e sport di squadra e quindi c'è tutto un tema della sostenibilità che riguarda lo sport e quello che sta attorno no? Eh inviterei anche a pensare a pensare da questo punto di vista anche perché lo sport anche per chi lo vede no? Non solo per chi lo pratica ma per chi lo vede da spettatore da tifoso è uno straordinario modo per imparare no? E per apprendere in teoria quando tu eh strutturi in un certo modo gli spazi contesti di interazione la sostenibilità la impari per osmosi non hai neanche bisogno di di insegnarla ecco. Scusa. Assolutamente Siti no no ti ringrazio per questa puntualizzazione anzi per questo rilancio per questo stimolo ricordo che la competition è aperta a tutte le università italiane che il nostro compito sarà quindi disseminare dal Piemonte a tutta la nazione avremo sicuramente gli amici siciliani calabresi eh campani Luca i miei amici lucani tantissimi che lavorano fra alla Sapienza e tantissimi della Federico eh secondo gli amici di Urbino di Venezia di Bologna eh di Padova ovviamente di tutti quelli di Milano insomma vi invitiamo tutti a partecipare perché sarà innanzitutto una grande festa un momento di molto grande divertimento che vogliamo però unire anche una responsabilità sociale eh e e che non poteva che cominciare dalla sostenibilità vi invito tutti ad andare a vedere tutte le regole e tutte le opportunità su VUG Torino 20 e 25 punto com e vi do appuntamento dopo domani alle 18 e 30 con il professor Alberto Rai Nodi della Rai Nodi dell'Università di Torino per parlare proprio del tema life e quindi di tutto quello che riguarda cura della persona cura del pianeta e di come mettere in insieme questi due elementi. Ancora grazie al professor Danseo al quale do il compito di essere un nostro grande ambasciatore e di aiutarci proprio per far partecipare più giovani possibili perché crediamo che questa opportunità sia davvero significativa. Buon pomeriggio e buona serata di lavoro e studio a tutti. Grazie.